Il mito del libro racconta proprio perché esiste il popolo veneto, partendo dai miti, cioè dai racconti greci e romani, i classici greci e romani, che hanno parlato di questo popolo. Non solo perché qualcuno ha messo in dubbio che questo popolo esista, ma qualcuno ha messo anche in dubbio che esista una lingua di questo popolo. E ho trovato invece che c'è un alfabeto venetico e che quindi non sarà quello, ovviamente, che adoperiamo adesso, ma la base, la radice della nostra lingua. E qualcuno ha detto che non siamo un popolo perché la nostra gente è stata mescolata per effetto di invasioni straniere. Ma tutti i popoli, specialmente i popoli d'Europa occidentale, sono stati mescolati, a meno che non si voglia fare risuscitare il Maykampf con Hitler, con la teoria della razza pura. La nostra non è una razza pura. È una razza che però esisteva fino dal XIII-XII secolo a.C. E se ne parlava, c'era tutta una tradizione orale. Poi è cominciata la tradizione scritta con Omero, che cita nel secondo libro dell'Iliade gli alleati di Troia in questa guerra. E tra questi alleati cita gli Eneti, cita i loro rei e Casanova poi, come sapete, immagino, ha tradotto l'Iliade in veneziano. E queste sono le basi da cui sono partito per cercare tracce in tutti i più grandi scrittori, in tutti i classici, grece, romani, che tutti parlano dell'esistenza di questo popolo. E allora chi nega l'esistenza di questo popolo farebbe bene imparare a leggere e forse anche a scrivere.